Stiamo precarizzando i lavoratori e sostanzialmente questo si traduce in meno ricchezza che quei lavoratori lavorando possono acquisire e si traduce in più ricchezza che la fiat invece può accumulare anche se fa lavorare meno. Allora questo è quello che è accaduto a livello sistemico, esattamente questo cioè attraverso tutte le politiche neoliberistiche che ormai sono abbastanza note, la cosiddetta globalizzazione che ha portato a una drastica diminuzione dei salari e dei diritti, si è creata proprio una redistribuzione della ricchezza sociale dalla quota salariale ai mercati finanziari e in questo modo nei mercati finanziari era possibile trovare quel profitto che invece nella produzione non si trovava più così forte. In questo modo però si alimenta un circolo vizioso poiché proprio togliendo ricchezza dalla parte salariale si diminuisce il potere d'acquisto della popolazione e quindi si va ad alimentare sempre di più quella difficoltà di fare soldi con il lavoro. Così quando poi invece scoppiano le bolle finanziarie, insomma il meccanismo finanziario si inceppa, non si sa più da che parte voltarsi. Non so se sono riuscito a rendere l'idea. Chiarissimo, chiarissimo. Se posso provare a dirlo con altre parole e così vediamo se ho capito correttamente quello che volevi dire. Praticamente il fatto che ci sia un mercato reale delle merci che occupa ormai se non ho capito bene solo il 10% del mercato finanziario o della possibilità mondiale di circolazione invece del denaro, questo comporta il fatto che una piccola variazione della speculazione finanziaria ha degli impatti enormi in realtà sul reddito delle persone normali che invece vivono di lavoro e quindi in questi anni è avvenuta una ridistribuzione al contrario, cioè quando aumentava la rendita da capitale diminuiva contemporaneamente la possibilità del lavoratore normale di vivere del proprio salario. Sì, ed è un meccanismo a doppio taglio diciamo, cioè la rendita del capitale cresceva proprio perché si diminuiva la possibilità del lavoratore di vivere col proprio salario e dopodiché c'è un ritorno, poiché si vuole fare sempre più accumulazione di denaro in maniera finanziaria si diminuisce ancora di più la possibilità del lavoratore di vivere col proprio salario per dirla con queste parole è un po' come la crisi che stiamo vivendo in questo momento quella che chiamano la crisi del debito pubblico non è in realtà che un'altra fase della crisi finanziaria iniziata nel 2007-2008 e anche lì c'è un movimento di ritorno prima hanno fatto pagare ai lavoratori i costi della prima fase della crisi per poter mantenere in piedi gli aumenti finanziari di capitale finanziando attraverso i finanziamenti degli stati, alle banche e adesso poiché gli stati si sono indebitati allora le banche dicono ma adesso noi non siamo più sicure perché gli stati non sono più sicuri allora si torna a chiedere ai lavoratori dei sacrifici per rifinanziare gli stati così che possano finanziare di nuovo le banche detta in maniera molto semplicistica vanno al collasso, chiedono l'aiuto degli stati quando gli stati poi sborsano per aiutarle ecco che intervengono a dire adesso siete indebitati non vi crediamo più ma mi sembra tutto molto lineare ti volevo chiedere una cosa secondo te tu hai parlato di globalizzazione quindi di abbassamento dei salari reali a causa appunto della competizione globale ma c'è anche un altro fattore per cui i salari voglio dire questa ricerca del saggio di profitto dell'aumento del saggio di profitto tramite la produzione non porta con sé per esasperazione vorrei dire del meccanismo che ricercare l'aumento del saggio di profitto attraverso l'abbassamento dei salari e quindi non è un po' forse strutturale un po' la crisi sì possiamo dire di sì il fatto è che quello che sta succedendo adesso in effetti ha degli elementi di forte novità per tutte le novità che riguardano il settore finanziario e come si è strutturato appunto il meccanismo di cui abbiamo parlato però anche degli elementi che sono strutturali quindi se ben guardiamo allo stesso meccanismo capitalistico dell'aumento del saggio di profitto che non riguarda semplicemente questa fase dello sviluppo capitalistico ma è sempre stata la preoccupazione primaria delle imprese anche le più sane e il meccanismo dell'aumento del saggio di profitto porta con sé esattamente la necessità di comprimere il costo del lavoro comprimere il costo del lavoro e quindi abbassare i salari e quindi aumentare quella parte di ricchezza prodotta nel processo lavorativo che va a costituire profitto che va a costituire capitale perché poi può essere reinvestito il lavoratore poi lo consuma il suo salario mentre il profitto del capitalista può essere reinvestito nel processo e quindi allargare questo processo crescita economica e tuttavia se questa crescita economica si basa sul fatto che il lavoratore consuma di meno per permettere al capitalista di investire di più il lavoratore che consuma di meno significa meno merci vendute e dunque c'è la crescita nel senso di crescita della produzione e però non c'è più la vendita il meccanismo si inceppa ed è quello che è avvenuto con la crisi di accumulazione verso la fine degli anni 60 è una maglietta notav è una maglietta notav sono un pericoloso terrorista anch'io sei contro lo sviluppo sono contro lo sviluppo assolutamente no il notavo sono per lo sviluppo uno sviluppo bravo bravo siamo per il tuo lavoro e se vuoi dire due cose il mio lavoro insieme ad altre ricerche e interviste che sto facendo insieme alla mia ragazza sempre sul tema del neoliberismo quindi non solo la finanziarizzazione si trova al sito www.dantes17.wordpress.com è un po' difficile comunque cercando il capitale puro in un motore di ricerca si trova grazie Stefano ti linkiamo dal sito di Radio Baccan perfetto a bene ciao a presto ciao ciao ciao